Ed ora parliamo di Baci, il nostro Enfant Prodige, un prodotto che da sempre è riuscito a rinnovarsi, per essere sempre contemporaneo e questo nonostante la grandissima sfida di mantenere inalterata la sua ricetta. Fin dal 1922, anno di creazione da parte di Luisa Spagnoli, con i suoi otto ingredienti, tutti completamente naturali, ma soprattutto in questa continua ricerca di armonia tra forma e dimensione, proprio per un grandissimo appagamento di tutti quanti i nostri sensi. Baci Perugina che quest'anno, proprio in questo sviluppo, in questa evoluzione di stile, rinnova proprio una delle sue caratteristiche principali di prodotto, che sono i suoi cartigli. Abbiamo creato 129 nuovi cartigli, alcuni sono stati rivisti, alcuni sono completamente nuovi. La cosa importante da dire è che soprattutto questi cartigli oggi spaziano dall'amore all'amicizia all'affetto, proprio perché Baci vuole essere ambasciatore di tutte quante le emozioni.